O benvenuti in The Witcher 3! E come mai un video su The Witcher 3? Semplicemente, siccome l'ho ripreso recentemente, ho detto, perché non filmare un contratto, non registrare un contratto? In questo caso il contratto Jenny dei Boschi. Per chi non avesse mai giocato a The Witcher 3, i contratti non sono altro che delle taglie messe su dei mostri più grandi del normale che solo un Witcher può uccidere. E allora adesso andiamo a parlare con l'Aldermanno di Mezzobosco, direttamente alla Melevisione. Ed eccolo qui, un po' spavaldo, devo dire. Sono qui per l'avviso per Jenny dei Boschi. Perché Jenny? Sei uguale alla figura sul libro di mia nonna. Ma sono molto contento di questa cosa. Ok, abbiamo scoperto che Jenny è una donna, colpo di scena. La bacheca locale offriva una ricompensa per chi avesse liberato la zona da un mostro di nome Jenny. Chissà che cavolo sarà. Adesso posso interrogare i testimoni o andare direttamente al campo e usare i miei sensi da Witcher per ispezionare i campi. E quasi quasi. Però prima, sai cosa faccio? Mi potenzio l'arma in modo da averla già bella che pronta. E anche l'armatura, se riesco a passare. Cosa sto facendo? Voilà, tutto migliorato, vado. Uh, che bel ciliegio. Vediamo un po' cos'è che disturba la povera gente qui. Oh, una donna è passata qui a piedi nudi. Un pezzo di tessuto strappato dai cespugli. Ah, ci stiamo avvicinando. E allora seguiamo le impronte come neanche Sherlock Holmes. Sento dei rumori e vedo dei rumori. Cavolo, The Witcher è l'unico gioco in cui posso dire vedo dei rumori e effettivamente aver ragione. Oh, delle budella. Lui l'ha coltellata o le ha tagliato la gola. Oh, ho trovato il pugnale dell'assassino. Ma quindi è un vero caso di omicidio questo qua? Vediamo se mi dice qualcosa in più. Oggetto necessario per completare una missione. Grazie. Oh, che cazzo di impronte sono queste qui? Del sugo? Potrebbe essere un vrath? Non lo so. Oh, c'è qualcosa qui. L'assassino aveva fretta. Uh, lettera trovata in una tomba. Ah, la tua fedele Zula. Allora, vediamo se ho capito bene. La signorina Zula ha lasciato il suo vecchio fidanzato Bokai per un nuovo fidanzato. Il problema è che il vecchio fidanzato Bokai non la vuole lasciare e credo che l'abbia uccisa e trascinata per i boschi. Bene, dai. L'amore non è bello se non è litigarello. Adesso dobbiamo tornare dall'Aldermanno per chiedere di questi due piccioncini. Quindi il vrath era la nostra Zula. Sì, sì, quindi Zula dopo essere morta è diventata un vrath. Ci avevo preso. Zula dopo essere stata uccisa, siccome è stata uccisa in modo troppo aggressivo, invece di morire normale è diventata una vrath. Vrath, vrath, non ho mai imparato a pronunciarlo giusto quella parola lì. Che cos'è questo cavallo bicefalo? Oh, che bella zona che si sono trovati comunque. Vai i cerbiatti che corrono. Adesso dobbiamo cercare dove facevano camporella i due piccioncini. Ah, guarda qui che bello. Brucia la lettera di Zula e il sangue secco sul coltello. Ah, sì, dobbiamo fare il rituale per... Credo evocare il vrath. Vrath. Però devo aspettare la notte perché quei vrath cattivi, aggressivi, sono solo di notte. Oh! Mi sa che l'abbiamo trovato. Eccola! Hamster, Hamster Jenny from the Bosque. Beh dai, un bocconcino carino. Capisco cosa ci trovava Bokai. Aiuto! Mi conviene intrappolarla nello Hirden. Così. Ok. Qualche bottarella gliela sto dando anch'io. Ah ah ah! Le battute sessuali. Oio! Oio! Ha tirato una flashbang. È vero che i vrath si moltiplicano, state boni! Oio che botta! Vabbè che sono leggermente underlivellato ma non troppo. Ehi, sono... Dato sul fuoco, puttana. Eh ma recupero... Guarda quanta vita recupero. Sai che forse non riesco a farla? Cazzarola. Eeeh mi è andata a puttare la spada. Bene dai! Ok, non l'ha recuperata quasi per niente. Io sto finendo le... Gli oggetti di cura però. Ed è andata. Perfetto. Perfetto. Con un pelo di fatica e l'arma ormai a puttane. A me ha sempre angosciato il fatto che l'armatura si veda con un pene e senza testa. Prendiamo il trofeo dal mostro che poi attacchiamo al nostro povero Rutilia. Oh una spada dimenticata di Vran, buono! Ed ecco il trofeo sempre molto carino e allegro. Una delle cose che mi piace di più di The Witcher 3 è proprio andare in giro magari di notte sotto la pioggia con la torcia. Nel nulla. Nel nulla più totale. Fighissimo. Mi è venuta una voglia di ristorante cinese che tu non hai idea non so perché. Ah giusto che stanno dormendo quindi dovrò rompergli i coglioni. Ah no, no, no dai. Ho liquidato Jenny dei Boschi. Un uomo con le palle proprio. Voilà. Contratto Jenny dei Boschi, missione completata. Dai mi manca una ciglia per salire di livello. Ma allora sei stronzo. E niente, questo era uno dei contratti di The Witcher 3. Mi piacerebbe farvene vedere altri. Solo che non so quanto vengano lunghi i video. Credo vengano... Ehi la madonna quanto ho saltato. Credo vengano lunghi qualche minuto e non di più. Però insomma a me piace registrarli. Se piace anche a voi perché non farne altri in mezzo ai video normali. Grazie mille e al prossimo contratto. Ma che cazzo è che indosso sti pantaloni qui?